Buongiorno ragazzi, allora oggi dopo aver visto la politica del regime fascista in materia di questioni interne, quindi dopo la promulgazione delle leggi fascistissime che tolsero le maggiori libertà agli italiani e l'organizzazione della scuola del dopolavoro, vediamo di affrontare brevemente la politica imperialista e soprattutto la politica razziale del regime fascista. Quindi siamo arrivati agli anni 30. Intorno agli anni 30 Mussolini decise di introdurre, di iniziare una vera e propria politica di espansione e di imperialismo appunto, attuando una serie di guerre di conquista. Vi ricordate che già durante l'epoca liberale, quindi dopo l'unità d'Italia, i vari governi tentarono di correre, concorrere alla conquista di territori, principalmente in Africa, con le guerre in Etiopia, in Eritrea, poi con la conquista della Cirenaica della Tripolitania, che vedremo diventeranno poi un'unica regione, quella della Libia, già congioliti nel 1912, nel 1935 Mussolini inizia a mettere in campo delle azioni di guerra di nuovo in Etiopia. Come fu quindi la politica estera? Quando parliamo di politica estera parliamo di politica rivolta agli altri stati, quindi dei rapporti con gli altri stati in epoca di pace, e mentre parliamo di guerre e di conquista, quando si parla appunto di tentativi di imperialismo. La politica estera del regime fu nazionalista e colonialista. Fu nazionalista perché fu decisamente aggressiva nei confronti delle altre potenze europee, poiché il fascismo voleva appunto imporre la supremazia dell'Italia, ma fu anche colonialista perché si adoperò nella conquista di nuove colonie. Perché Mussolini trovava necessario avere delle nuove colonie? Perché secondo la sua opinione questo avrebbe potuto dare prestigio all'Italia a livello internazionale. E inoltre avrebbe risolto il problema della disoccupazione, poiché offriva delle nuove opportunità agli italiani. Già l'impresa di Libia era stata venduta agli italiani in questo senso, vi ricordate tutta la polemica poi scaturita dopo la conquista della Libia, e dunque la triste constatazione che alla fine la Libia non offriva nessuna opportunità per cui venne definita dai detrattori lo scatolone di sabbia. Ecco, Mussolini tentò di nuovo di propagandare la conquista dell'Etiopia come una fonte di ricchezza per gli italiani. Allora, l'invasione iniziò dunque nell'ottobre del 1935 senza una vera e propria dichiarazione di guerra. Per fare ciò l'Italia ricorsa un gran numero di soldati e di armi, vennero utilizzati addirittura sui civili, sulle popolazioni etiope, gas asfissianti e anche bombe, quindi in un'ottica assolutamente non legale. L'Etiopia inoltre era un paese indipendente, era membro della Società delle Nazioni, vi ricordate la Società delle Nazioni costituita all'alba della fine della guerra, con le trattative di pace a Versailles. Infatti, essendo un membro della Società delle Nazioni, gli altri membri, tra cui in principio al mondo Francia e Inghilterra, dichiararono di non essere assolutamente d'accordo con l'iniziativa di Mussolini. Però, allo stesso tempo, non potevano neanche pensare di iniziare a fare una guerra contro l'Italia per difendere l'Etiopia, poiché a parer loro non ne valeva la pena. Quindi, fecero approvare delle sanzioni economiche, dei provvedimenti punitivi che vietavano all'Italia l'esportazione di beni, di interessi militari. Ma queste sanzioni non indebolirono affatto l'Italia, poiché in primo luogo non comprendevano materie prime e in secondo luogo perché non vennero assolutamente rispettate neanche dagli stati che le avevano imposte. Dunque, l'Italia riuscì in breve tempo a piegare l'Etiopia. Abbiamo visto che investì una grande quantità di capitale umano, quindi di uomini e anche di armi, contro un esercito molto rudimentale. Dunque, il 5 maggio del 1936 venne conquistata l'allora capitale Addis Abeba e il 9 maggio Mussolini proclamò il ritorno dell'impero a Roma. Dunque, l'Italia, oltre che uno stato, diventava un vero e proprio impero e il re Vittorio Emanuele III divenne così, oltre che re d'Italia, anche imperatore di Etiopia. Allora, qua vedete in verde quelli che erano i possedimenti dell'Italia nel 1936. La Libia, che era già stata conquistata nel 1912 sotto il governo Gelitti, venne unita. C'erano due province, la Tripolitania e la Cirenaica, e vennero unite in una sola che si chiama appunto da allora Libia. E inoltre, oltre alla Somalia e l'Eritrea, che erano già state conquistate, anche queste tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, si aggiunse poi tutta l'Etiopia. Questa è il numero della Gazzetta del Popolo del 1936, appunto, in cui viene riportato la rinascita dell'impero italiano con appunto i territori conquistati. Questi qua sono in rosso, Italia, Libia, Somalia, Eritrea ed Etiopia, qualche isola, cioè parte dell'Albania e poi isole del Dodecanneso. Allora, guardiamo ora un brevissimo documentario che riporta immagini dell'Istituto Luce, dunque immagini dell'epoca, in cui viene raccontato il momento in cui Mussolini proclama appunto la conquista dell'Etiopia e la rinascita dell'impero italiano. Sentirete proprio la sua voce, quindi potete già farvi un'idea di qual era la dialettica, la retorica dei discorsi pubblici di Mussolini, che riusciva ad infiammare le folle. La proclamazione dell'impero. Un grande evento si compie, viene suggellato il destino dell'Etiopia oggi, 9 maggio, 14esimo anno dell'era fascista. L'Italia ha finalmente il suo impero. Un impero fascista, perché porta i segni indistruttibili della volontà e della potenza del littorio romano. Impero di pace, perché l'Italia vuole la pace per sé e per tutti. E si decide la guerra soltanto quando vi è forzata da imperiose, incoercibili necessità di vita. Impero di civiltà e di umanità per tutte le popolazioni dell'Etiopia. Ecco la legge, o italiani, che chiude un periodo della nostra storia e ne apre un altro, come un immenso barco aperto su tutte le possibilità del futuro. Primo, i territori e le genti che appartenevano all'impero di Etiopia sono posti sotto la sovranità piena ed intera del regno d'Italia. Secondo, il titolo d'imperatore viene assunto per sé e per i suoi successori dal re d'Italia. Ufficiali, sotto ufficiali, gregari di tutte le forze armate dello Stato, in Africa e in Italia. Camicenele italiani e italiane, il popolo italiano ha creato col suo sangue l'impero. Questo grido è come un giuramento sacro che vi impegna innanzi a Dio ed inanzi ai uomini Per la vita e per la morte Allora, avete così potuto sentire il discorso proclamato da Mussolini il 9 maggio del 1936 in Piazza Venezia. Piazza Venezia a Roma, di fronte all'altare della patria, quindi in centro a Roma, prende il nome dal palazzo da cui Mussolini si affacciava, che era appunto Palazzo Venezia. Mussolini, avete sentito sicuramente che cita tra le cose che la proclamazione avvenne il 9 maggio del 14esimo anno dell'era fascista. Perché parla di 14esimo anno dell'era fascista? Non ve l'ho spiegato, ma nel 27 Mussolini impone il cambio della datazione. Quindi non si parte più dall'anno zero, quindi 1936, ma si parte dal 29 ottobre del 1922, ossia il giorno dopo la marcia su Roma. Lì inizia il primo anno dell'era fascista. Dopo la marcia su Roma, in Italia si è obbligati a citare sempre come anno quello dell'era fascista e non più l'anno universalmente accettato sia quello dall'anno zero. Di conseguenza la proclamazione dell'impero avvenne appunto il 9 maggio del 14esimo dell'era fascista, che sarebbe il 1936, perché 36-22 fa 14, ok? Allora, quindi, la missione di Mussolini del fascismo in Etiopia venne presentata agli italiani come una sorta di diritto, il diritto al posto al sole. L'Italia aveva bisogno della sua colonia per potersi accrescere, accrescere prestigio, accrescere le ricchezze. E inoltre era al contempo una missione civilizzatrice per i popoli barbari e inferiori degli Etiopi. Per giustificare tutto ciò, Mussolini dovette prendere dei provvedimenti anche di tipo economico, quindi fece trasferire diverse attività economiche, come ad esempio il Banco di Roma, che era la banca più importante, una delle più importanti dell'epoca. Inoltre, incentivò il trasferimento di italiani in Etiopia, italiani che poi divennero dei veri e propri coloni, coloro che diventarono i veri protagonisti della storia dell'Etiopia, ossia i membri, gli appartenenti di un popolo già povero, come era quello dell'Italia, che andavano a sfruttare un popolo ancora più povero, ossia quello degli Etiopi. Le imprese commerciali però videro una possibilità di trarre profitto dalla colonizzazione, poiché potevano derivare dei guadagni dalle merci acquistate, ma anche dalla costruzione delle infrastrutture, quindi strade, ponti, ferrovie, palazzi. La campagna di Etiopia, come abbiamo già detto, venne presentata proprio come un atto di civilizzazione, per liberare una terra primitiva, quella dell'Etiopia, degli Etiopi, ai quali venne data l'opportunità, secondo il regime, di imparare l'italiano e i valori fascisti. Il regime ometteva però tutta la parte che stava dietro, sia quello dello sfruttamento delle popolazioni, le violenze perpetrate, abbiamo già visto comunque con l'uso di gas e anche di omicidi, effettuati in modo assolutamente barbaro. La conquista inoltre non portò nessun vero vantaggio economico, poiché l'Etiopia, come già la Libia a suo tempo, era un paese povero di risorse naturali e assolutamente inadatto all'agricoltura. Però il successo fu sicuramente, indubbiamente, politico, poiché Mussolini era riuscito a imporsi sulle potenze occidentali. Francia e Inghilterra, che all'inizio avevano vietato a Mussolini di intraprendere un'iniziativa come quella della conquista dell'Etiopia, e dopo aver imposto le sanzioni, riconobbero comunque loro malinguare l'impero italiano. Di conseguenza, a molti italiani, sembrò che Mussolini avesse fatto diventare davvero grande l'Italia, di fronte a averla fatta finalmente sedere al tavolo di quelle potenze che contavano davvero. Abbiamo detto che, oltre all'Etiopia, l'Italia possedeva già la Libia, e in questo periodo ci fu un vero e proprio sviluppo economico. Alla Libia, durante il fascismo, venne attributo l'appelativo di quarta sponda. L'Italia aveva tre sponde, Mar Ligure, Adriatico e Mediterraneo, quindi serviva ancora la sponda della Libia. Negli anni 20 ci fu una pacificazione della colonia d'opera di Rodolfo Graziani, che dopo la fine della guerra verrà considerato uno dei peggiori criminali di guerra italiani. Infatti nel 1934 le due regioni, Tripolitania e Cirenaica, furono riunite sotto il nome di Libia, un nome utilizzato, pensate, 1500 anni prima da Diocleziano, dall'imperatore Diocleziano, per indicare quei territori. Venne chiamato di erigere la Libia Italo Balbo, che vi ricordate essere uno dei primi gerarchi fascisti già presenti alla marcia su Roma nel 1922, anche lui poi ricercato come criminale di guerra, avviò dalle autorità libiche, avviò un piano di colonizzazione che portò migliaia di italiani in Libia, con un conseguente sviluppo economico. Infatti in Libia ora meno, però per molto tempo sopravvissero nuclei di italiani che si trasferirono in Libia e che ancora ora hanno molti antenati libici. L'Italia terrà la Libia fino al 1943, quindi dopo la caduta di Mussolini. Dopo la fine della guerra venne provvisoriamente amministrata da Gran Bretagna e Francia e poi nel 1951 si potrà definitivamente rendere indipendente e chiederà dei debiti di guerra, delle sanzioni amministrative da pagare all'Italia che ancora ora pesano sul nostro debito pubblico. Quindi anche qua la Libia alla fine non fu una mossa intelligente da parte sia del governo Giolitti e poi dello sviluppo con il governo Mussolini. Passiamo ad un'altra pagina fondamentale e tristemente celebre della stagione del regime fascista, ossia la politica razziale. Allora siamo arrivati al 1936, questa mossa della conquista dell'Etiopia fece avvicinare Mussolini con Hitler. Hitler, ne parleremo poi con calma, non nella prossima lezione, in quella dopo, aveva preso il potere nel 1933 in Germania. I due si sono almeno apertamente, pubblicamente sempre ammirati ma una vera e propria alleanza iniziò appunto dopo la conquista dell'Etiopia. Infatti nell'ottobre del 1936 i due firmarono un patto di amicizia l'asse Roma-Berlino che li legava da un appoggio reciproco nel rifornimento di armi e di materie prime. L'alleanza fu poi rafforzata l'anno successivo, quindi nel 1937, con l'adesione dell'Italia a un patto già prefirmato tra tedeschi e giapponesi contro il comunismo internazionale, quindi che viene chiamato il patto anticomintern per evitare il trasbordamento della rivoluzione bolshevica come quella che era venuta in Russia nel resto del mondo. Ma il vero e proprio patto che sancì l'alleanza tra Italia e Hitler fu il patto d'acciaio firmato poi nel 1939, che sarà poi la causa dell'entrata in guerra e della rovina dell'Italia e del fascismo e dell'Italia tutta con l'entrata in guerra nella seconda guerra mondiale, ma ne parleremo anche qua a tempo debito. Sulle leggi razziali, allora Hitler sale al potere nel 1933 e nel suo programma ha già ben chiara una politica razziale nei confronti degli ebrei, ebrei che vengono considerati i principali insieme ai rossi e ai comunisti, artefici della sconfitta della Germania nella prima guerra mondiale. I Mussolini invece no, Mussolini non ha mai avuto sentimenti di odio nei confronti degli ebrei, anzi in un primo tempo gli ebrei considerati bravi, abili, commercianti, abili, capitalisti, investitori, venivano considerati positivamente dal regime. Nel momento in cui però si allea con Hitler, Mussolini deve un po' plasmare diversamente la sua politica nei confronti dei gruppi di minoranze come quello degli ebrei. Infatti la conseguenza più grave dell'alleanza con Hitler fu proprio l'introduzione delle leggi razziali nel 1938. Hitler l'aveva già introdotte sistematicamente nel 1935, però come abbiamo detto in Italia non c'era una vera e propria tradizione antisemita, anzi gli italiani, gli ebrei in Italia all'epoca erano 40.000 circa e dopo la promulgazione dello Statuto Albertino, vi ricorderete nel 1848, e con l'estensione della libertà di culto a tutti gli italiani, prima del regno di Savoia e quindi il regno di Piemonte e di Sardegna e poi con l'unità d'Italia a tutte le regioni d'Italia vennero aperti i ghetti. L'ultimo ghetto che fu aperto fu quello di Roma nel 1870 dopo la breccia di Porta Pia. Da quel momento gli ebrei potevano vivere tranquillamente come tutti gli altri italiani insieme agli altri italiani cattolici. Inoltre in Italia tra questi 40.000 non erano una maggioranza coloro che professavano la religione ebraica, ma tanti o erano atei o si erano sposati con i cattolici, quindi si erano convertiti, o semplicemente non praticavano la loro religione. In ogni caso la promulgazione delle leggi scatrano molta perplessità nell'opinione pubblica e la dura condanna, anche se non aperta, della Chiesa Cattolica. Infatti vediamo che la Chiesa Cattolica insieme alla monarchia avranno un peso molto importante nel non aver impedito a Mussolini di attuare una politica del genere. Però io vorrei andare con gradi, con un po' di chiarezza, su quella che fu la vera e propria cronologia della persecuzione ebraica in Italia. Dobbiamo farla in modo sbrigativo perché capite bene che abbiamo poco tempo. Però vediamo per tappe qual è stata l'evoluzione. Allora, io vi presento un quadro fino alla fine della persecuzione, ossia fino al 1945, e quindi affrontando anche tematiche avvenute, quindi problematiche avvenute durante la guerra. Guerra che vedremo più in là. Perché la vera e propria analisi delle cause e poi dei momenti della Seconda Guerra Mondiale li vedremo, allora, non questa lezione, non quella più verso maggio, immagino. Però cerchiamo di capire almeno qual è stata la sorte degli ebrei in questi momenti. Allora, prima dell'alleanza con Hitler, cosa succede? Negli anni 30-31 viene fatta una riforma legislativa dell'ordinamento delle comunità israelitiche a carattere centralizzatore. Perché? Allora, ricordatevi che nel 29 l'Italia aveva firmato il concordato con la Chiesa Cattolica. Concordato che prevedeva la religione cattolica come religione di Stato e di tutti i cittadini. Di conseguenza, le altre religioni dovevano essere in qualche modo controllate. Ed è in quest'ottica che si inserisce questa riforma delle comunità israelitiche. Ma non c'è ancora una volontà di contenere o di perseguitare gli appartenenti a questa religione. Però in Germania, invece, il 30 gennaio del 33, Hitler diventa cancelliere e inizia la legislazione anti-ebraica. Che verrà messa su carta, quindi diventa legge poi nel 35. Ma dall'inizio Hitler aveva una chiara volontà di sterminio del popolo. Poi vedremo con che tempistiche. Allora, quindi, dopo l'11 aprile del 34, il ministro dell'interno dispone il censimento della religione. Professata dai podestà. Quindi ogni italiano doveva dichiarare a che religione apparteneva. Però è un avvio non sistematico questo. Non c'è la chiara volontà di colpire gli ebrei. Ma semplicemente di farsi un'idea della quantità di aderenti a determinate religioni. Il 15 settembre del 34, del 35, scusate non l'ho scritto ma poi ve lo aggiungo, vengono varate le leggi anti-ebraiche naziste, dette le leggi di Norimberga. Che sono quelle che invece determineranno poi una vera e propria circoscrizione degli ebrei in Germania che verranno poi gradutamente deportati e sterminati. In Italia, il 5 maggio del 36, inizia, quindi dopo, siamo a cavallo della proclamazione della conquista dell'Etiopia, della proclamazione dell'impero, e inizia a entrare nelle case degli italiani una certa idea di volontà del regime in senso razzista, sia nei confronti delle popolazioni, anzi in un primo momento, delle popolazioni nere, quindi degli etiopi, che vengono considerati inferiori. E c'è tutta una campagna di stampa, proprio a sfondo derisorio, delle popolazioni etiopi, libiche, africane in generale. E accanto a queste iniziano a diffondersi delle stampe satiriche, delle pubblicità, anche in senso anti-ebraico. Il 37 si diffonde in Italia, grazie all'opera di personalità italiane fortemente antisemitiche, come Giovanni Preziosi, Giusebola. Viene diffuso un pamflet, una sorta di saggio, che si intitolava I protocolli dei Savienzeni di Sio. Era un libro che girava già da prima, dall'inizio del 1900, ed era già stato ampiamente falsificato, nel senso che si sapeva che era un falso, eppure continuava a circolare. Nel 1938 il Ministero dell'Interno dispone il censimento della religione professata dai propri dipendenti. Ma torniamo un attimo ai protocolli dei Savienzeni di Sion, cos'erano? Sono un vero e proprio falso, costituito ad hoc, quindi apposta, per alimentare la propaganda antisemita. Allora, si dice, non si sa bene come sia avvenuta la cosa, però è molto probabile che sia stato scritto da un agente della polizia segreta russa. venne per la prima volta, apparve per la prima volta nel 1903, e poi integralmente, quindi tutto il libro nel 1905, ma si diffonde principalmente all'inizio, negli anni 10, quindi prima della guerra mondiale. E che cos'era? Di cosa raccontava? Raccontava di un presunto resoconto di alcune sedute tenute a Basilea durante un congresso sionista del 1897. Vi ricordate che il sionismo nasce nel 1896 per opera di Theodor Herz, questo ebreo che propone l'idea di formare una unità di ebrei, appunto riuniti intorno al nome di sionismo, con l'intenzione di tornare nella terra promessa, tornare ad Israele. Allora, dopo la nascita del sionismo nasce immediatamente l'antisionismo, che è un sentimento millenario che esiste da quando esiste la religione cattolica. Però l'antisionismo come movimento del 1900 è ancora diverso. Di conseguenza questo pamphlet, questo saggio, raccontava, pareva che raccontasse, di questo piano delle più grandi autorità ebree del mondo, con quale avrebbero voluto conquistare il mondo, tramite l'azione terroristica e l'entrata nell'alta finanza mondiale. In realtà, abbiamo visto già nel 21, l'opera venne dimostrata essere un falso, perché era una sorta di riadattamento in chiave antisemita di un libero contro Napoleone III del 1864. Quindi venne comprovata la falsità dei protocolli anziani di sionismo, ma i protocolli continuarono a circolare e circolarono sia nella Seconda Guerra Mondiale sia anche dopo. Pensate che lo statuto di Hamas, nucleo terroristico fondato negli anni 80 del 1800 in territorio medio orientale, ancora nel 1987 nel proprio statuto citava i protocolli dei stavi anziani di sion come testimonianza della necessità di eliminare il pericolo ebraico. Nonostante si sappia già dal 21 essere un falso, in ogni caso pensate alla potenza di questo libro. In Italia si diffonde e iniziano a fermentare questi sentimenti antisemiti, anche se in realtà gli italiani non capivano il perché di queste, almeno la maggior parte degli italiani, non capivano il perché di queste iniziative. Allora, siamo arrivati al 38. Il 14 luglio del 38 è una data fondamentale, poiché viene pubblicato un documento intitolato Il fascismo e il problema della razza, che viene anche riportato con il titolo Il manifesto degli scienziati razzisti, che annuncia le basi teoriche del razzismo. Io ve l'ho lasciato da leggere di compito, lo leggerete e dovrete analizzarlo e capirete di cosa si tratta. Il 17 luglio del 38 nasce la Direzione Generale per la Demografia e la Razia, abbreviato in demorazza, che aveva il compito di studiare, di attuare i provvedimenti in materia demografica, ma inizialmente non attinenti alla razza, poi in un secondo momento attinenti alla razza, e quindi anche, ad esempio, doveva occuparsi del censimento degli ebrei, il censimento che venne attuato il 22 agosto del 38. Nel settembre del 38 il Consiglio dei Ministri, del Gran Consiglio del Fascismo, approva un primo gruppo di provvedimenti legislativi anti-ebraici, e dispongono tra l'altro l'espulsione di tutti gli ebrei dalla scuola, quindi sia gli studenti sia i professori, e l'espulsione della maggior parte degli ebrei stranieri, giunti nella penisola dopo il 38. Ma la data fondamentale in tutto ciò è il 6 ottobre del 1938, poiché il Gran Consiglio del Fascismo approva la dichiarazione sulla razza. Un vero e proprio testo di legge che sancisce la esclusione degli ebrei dalla vita pubblica e sociale italiana. Anche questo testo ve l'ho lasciato in pdf da analizzare e da vedere nel dettaglio, e poi dovete anche rispondere a delle domande per capirlo di più. Ma vediamo in breve che cosa stabilì questa legge. Stabiliva chi era di razza ebraica, in modo assolutamente arbitrario. Il Gran Consiglio del Fascismo stabiliva che chi è di razza ebraica A. Chi è di razza ebraica? E' di razza ebraica colui che nasce da genitori entrambi ebrei. B. E' considerato di razza ebraica colui che nasce da padre ebreo e da madre di nazionalità straniera. D. E' considerato di razza ebraica colui che pur essendo nato da un matrimonio misto professa la religione ebraica. E D. Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da un matrimonio misto qualora professi altra religione al di fuori di quella ebraica. Alla data del primo ottobre del sedicesimo anno dell'era fascista. Vedete che sarebbe il 1938. Quindi non c'era dubbio che chi aveva entrambi i genitori ebrei fosse ebreo. Ma se uno era figlio di un matrimonio misto quindi aveva il padre ebreo e la madre non ebrea ma italiana allora non era considerato ebreo. Se invece la madre era straniera quindi anche solo francese e tedesca allora era considerato ebreo. Invece non era considerato ebreo chi era nato da un matrimonio misto quindi ebreo e non ebreo ma professava un'altra religione che non fosse quella ebraica ossia ad esempio la religione cattolica ma alla data del primo ottobre del 1938 perché capirete bene che se avessero escluso un limite massimo tutti gli ebrei nati da matrimonio misto per paura di essere colpiti dalla legislazione antebraica avrebbero potuto convertirsi all'ultimo. Quindi questo era quello che il fascismo aveva stabilito per definire chi fosse ebreo e chi no. Nel frattempo lo stesso anno lo vedremo poi meglio quando faremo il nazismo e la politica di Hitler in Germania la notte del 9-10 novembre del 1938 accadde un evento assolutamente tragico ossia un pogrom quindi una retata ai danni di una comunità antebraica in Germania che venne ricordata tristemente come la notte dei cristalli poiché vennero uccise 91 persone e rase al suolo dal fuoco quindi incendiate 267 sinagoghe e devastati 750 negozi ecco perché prende il nome della notte dei cristalli dai cristalli quindi dal vetro dei negozi rotti la polizia ricevete l'ordine di non intervenire e i vigili del fuoco badavano che il fuoco non divampasse in altri edifici che non fossero sinagoghe o negozi ebrei appartenenti a persone ebree quindi in quella stessa notte circa 30.000 ebrei vennero deportati nei campi di concentramento di Dachau, Buchenwald e Saunse scusate ma è impronunciabile e per il momento non era ancora in atto una vera e propria politica di sterminio ma venivano internati in campi di lavoro relativamente solo al campo di Dachau nel giro di due settimane quindi siamo nel 38 alla fine del 38 vennero internati oltre 13.000 ebrei quasi tutti furono liberati nei mesi successivi anche se già solo 700 persone persero la vita ma dopo esserano stati privati della maggior parte dei loro beni quindi per il momento agli ebrei venivano tolte la libertà quindi non avevano più diritti politici non avevano più diritti civili venivano tolte loro tutti i loro veri tendenzialmente la comunità ebrea almeno in Italia era appartenente all'alta media borghesia ad esempio quindi avevano casa, avevano denaro vengono confiscati tutti e per gli ebrei sopravvissuti vedremo che sarà molto difficile anche tornare ad appropriarsi di nuovo dei loro beni per tutta una questione burocratica che sarà infinita torniamo all'Italia quindi il 17 novembre del 38 viene emanato dunque il regio decreto firmato dal re Vittorio Emanuele III contenente 29 articoli che decretano i provvedimenti per la difesa della razza italiana basati sulla dichiarazione della razza del 6 ottobre del 38 del mese prima quindi il re senza assolutamente imporsi firma i provvedimenti per la razza degli impieghi presso ditte private delle iscrizioni presso le liste di collocamento avevamo visto che erano già stati espulsi dalla scuola tutti in tutti i gradi anche se fu permesso almeno per quanto riguarda le elementari e le medie di costituire delle scuole private per cittadini di fede e di razza ebraica vennero espulsi anche dall'ambito universitario se avremo tempo e se riusciremo vorrei ci terrei a farvi conoscere bene la figura di Primo Levi uno dei sopravvistuti di Auschwitz che poi racconterà magistralmente tutta la sua esperienza nei libri che conosciamo ossia se questo è un uomo i sommersi salvati la tregua il sistema periodico io vorrei farvi leggere almeno se questo è un uomo vediamo poi come fare in ogni caso Primo Levi lui stava finendo l'università nel 1938 lui faceva chimica e a lui venne data l'opportunità di finire la laura quindi lui poteva comunque laurarsi perché gli mancavano pochi esami ma tante persone invece non poterono finire e dovettero abbandonare tutto sul fronte internazionale l'11 settembre del 1939 l'Italia invade la Polonia e questo atto vedremo anche qua poi con calma scaturirà l'inizio della seconda guerra mondiale l'Italia non aderirà immediatamente come aveva già fatto nella prima guerra mondiale entrerà poi un anno dopo sei mesi dopo nel giugno del 40 nel frattempo il 9 febbraio del 40 Mussolini fa comunicare ufficialmente l'unione delle comunità israelitiche italiane quella che aveva creato nel 30-31 che tutti gli ebrei italiani avrebbero dovuto lasciare l'Italia entro pochi anni Mussolini era consapevole che l'alleanza con Hitler avrebbe previsto prima o poi l'internamento anche degli ebrei italiani nei campi di concentramento quindi per il primo momento offre ancora la possibilità degli ebrei italiani di lasciare l'Italia molti ci riusciranno si rifugieranno principalmente negli Stati Uniti e avranno la vita salva quelli che cercheranno di sfuggire in Svizzera avranno la vita salva ma a un certo punto non ci riusciranno più in Francia no perché era un territorio occupato ugualmente in Grecia la Spagna vedremo poi nel periodo della guerra civile anche lì si instaurerà un regime filofascista la Spagna ebbene non darà mai consegnerà mai nessun ebreo a Hitler quindi Francisco Franco dittatore avrà almeno il privilegio di aver avuto il buon senso di non consegnare i suoi ebrei in Spagna c'era una comunità di ebrei anche molto grande il 10 giugno come abbiamo detto prima del 40 l'Italia entra in guerra nella seconda guerra mondiale e inizia l'internamento degli ebrei italiani classificati però attenzione quelli maggiormente pericolosi quindi antifascisti e degli ebrei stranieri cittadini in stati aventi una politica antisemita quindi Germania principalmente Polonia allora badate bene all'alba dell'emanazione delle leggi razziali in Italia molti fascisti erano scusate molti ebrei erano fascisti anzi c'erano dei veri e propri nuclei ad esempio quello sorto intorno ad un periodico torinese della nostra bandiera di ebrei che venivano definiti fascistissimi erano diventati fascisti da subito erano filomussoliniani non avevano nulla in contrario con le politiche di Mussolini il mondo però gli crollò addosso nel momento in cui Mussolini proclamò le leggi razziali da quel momento in poi in poi ebrei fascisti non ce ne furono più il caso emblematico è quello di un editore modenese che si chiamava Angelo Fortunato Formigini un editore quindi scriveva libri e pubblicava libri e lui divenne fascista da subito nel 1922 ebbe una vicenda molto complicata perché entrò nei circoli degli intellettuali fascisti soprattutto divenne molto uno stretto collaboratore di Giovanni Gentile il ministro dell'istruzione quello che ha fatto la riforma Gentile del 1923 e Formigini aveva da tempo l'idea di costituire la prima vera e propria enciclopedia italiana e avrebbe voluto farla tramite un comitato alle cui dipendenze cioè alle dipendenze del ministero della cultura quindi insieme a Gentile Gentile però disse negò a Formigini di poter costituire di poter creare un progetto del genere perché secondo lui la cultura basata sull'enciclopedismo era superata tutta in un'ottica neo-idealista lui era un filosofo ma in realtà Gentile voleva semplicemente escludere Formigini dalla creazione dal comitato di creazione dell'enciclopedia per farne una a nome proprio del partito infatti verrà fondata in quel periodo la fondazione Leonardo che metterà poi in piedi l'opera mastodontica dell'enciclopedia treccani grazie appunto ad un imprenditore treccani genovese che mise poi il nome e i soldi da quel momento in poi Formigini già inizia a distaccarsi un po' dalla politica del regime però perché vi ho parlato di lui perché lui è stato il caso emblematico di uno di quegli ebrei che dall'inizio credeva nel fascismo ma che lentamente ha dovuto invece ricredersi e diventando un grande antifascista tanto che nel 38 quindi pochi giorni dopo la proclamazione delle leggi razziali decide con un atto quasi scenografico di suicidarsi buttandosi dalla torre della ghirlandina di Modena in piazza a Modena con una lettera in cui spiegava la chiamava l'ultima ficozza la ficozza è una sorta di cosa fastidiosa un'invettiva una lettera aperta nei confronti di Mussolini e di tutti coloro che avevano approvato le leggi razziali e dall'altra parte quindi da una parte una lettera e dall'altra parte dei soldi perché lui voleva far capire che non si era ucciso per motivi economici perché lui di soldi ne aveva ma per motivi ideologici perché non poteva pensare di vivere in un mondo che aveva accettato in un paese che aveva accettato le leggi razziali tutto questo per farvi capire che comunque molti fascisti erano ebrei e molti ebrei furono catapultati da un momento all'altro in una situazione che non pensavano di poter vivere mai sotto una personalità come quella di Mussolini che non era antisemita eppure nel 38 e nel 40 soprattutto gli ebrei dovessero assistere a queste cose qua e molti ne morirono poi vedremo quanti comunque nel giugno settembre del 40 viene aperto il primo campo di raccolta a Ferramonti di Tassia nel sud Italia in provincia di Cosenza era il più grande ed importante campo di concentramento fascista con una presenza media quindi di circa 2000 internati nell'estate del 43 ci fu il picco di 2700 persone gli ospiti scritto tra virgolette poiché non erano assolutamente non era una cosa volontaria ma erano obbligati non erano solamente ebrei c'erano sia ebrei sia zingari sia dei profughi degli apolidi o comunque personalità indegne di essere degli antifascisti e degli antinazisti questa è una foto dell'epoca quindi vedete ha la classica struttura di un campo di raccolta con i baracconi disposti tutti in modo longitudinale ecco questa è una foto del campo di Ferramonti allora continuando nella nostra cronologia nel 41 si chiude il flusso migratorio degli ebrei dalla penisola non possono più entrare non possono più uscire soprattutto non possono entrare nel 42 si impone il divieto di emigrazione degli ebrei dalla Germania perché molti ebrei tedeschi tentarono ancora la via dell'Italia da quel momento in poi non più nel frattempo il 20 gennaio del 42 una data fondamentale ossia quella della conferenza del Valsea quando Hitler presenta alle più grandi autorità naziste a Berlino il piano di sterminio quella cosiddetta soluzione finale della questione ebraica quindi da quel momento in poi viene attuato un piano sistematico di annientamento della popolazione ebrea il piano di Hitler era quello di far sparire proprio gli ebrei dalla faccia della terra in Italia nel 42 avviene l'istituzione del lavoro obbligatorio per alcune categorie di ebrei italiani e nel 42 arrivano a Mussolini alle maggiori autorità italiane le prime notizie sempre più chiare dell'azione di sterminio degli ebrei attuato nei territori controllati dall'alleato tedesco quindi Mussolini ne sapeva già dal 42 quello che il suo alleato in Germania stava facendo arriviamo al 43 viene presa la decisione di istituire nella penisola campi di internamento e lavoro obbligatori per ebrei italiani abili al lavoro quindi coloro che erano in una situazione in un'età adatta al lavoro principalmente uomini allora vengono obbligati a andare in questi campi di lavoro il 10 luglio del 43 però avviene lo sbarco degli alleati in Sicilia allora brevemente la prima guerra la seconda guerra mondiale vede da una parte Germania Giappone Italia e dall'altra Gran Bretagna Francia Stati Uniti sbarcano gli alleati quindi gli Stati Uniti in Italia e iniziano a liberare piano piano l'appinisola partendo dal sud e quindi finisce anche la persecuzione antipraica nelle zone liberate il 25 luglio del 43 viene presa la decisione di consegnare alla polizia tedesca ebrei tedeschi presenti in Francia quindi zona occupata dall'Italia e di trasferirli a Bolzano dal campo di Ferramonti di Tarsia perché la Calabria sta venendo liberata e quindi il campo di Ferramonti viene smantellato lo stesso giorno il Gran Consiglio del Fascismo il re decidono di destituire Mussolini e contemporaneamente arrestarlo il re incarica Pietro Badoglio un altro di quelli che verranno considerati criminali di guerra perché anche lui era intervenuto in Etiopia con veri e propri crimini di guerra prende l'incarico di formare il nuovo governo Mussolini viene arrestato riuscirà poi a scappare e dopo vediamo come il governo Badoglio fortunatamente blocca l'attuazione delle disposizioni del maggio luglio precedente quindi revoca tutte le circolari persecutorie però lascia in vigore le leggi persecutorie l'8 settembre del 43 viene annunciata la firma dell'armistizio con gli alleati il re e il governo profuggono Brindisi scappano nei territori liberati Roma non è ancora liberata il 18 aprile del 43 viene aperto il campo di Borgo Sandalmazzo quindi vicino a noi in provincia di Cuneo sorto nell'ex caserma degli Alpini di una piccola città 8 km da Cuneo noi la conosciamo il campo di Borgo fortunatamente non fu un campo di sterminio però era un campo di raccolta quindi da lì poi dovevano partire gli ebrei per i campi invece polacchi e tedeschi il 10 settembre del 43 inizia l'occupazione militare tedesca quindi i territori del nord Italia del centro del nord Italia vengono occupati dai nazifascisti il sud invece è liberato dagli alleati viene creata una zona di operazione del litorale adriatico nei territori tra Trento e Trieste e qua assumono i poteri civili e attuano una vera e propria politica antiebraica quindi gli ebrei vengono internati e poi mandati nei campi di concentramento viene creata un nuovo campo di raccolta che è quello della risiera di San Sabba vicino a Trieste nel settembre del 43 continua la liberazione dell'Italia meridionale della Sardegna nascono e iniziano a nascere le prime formazioni partigiane queste cose le vedremo nel dettaglio quando affronteremo poi la guerra iniziano i colloqui di Mussolini che viene fatto evadere dai tedeschi con i responsabili dei tedeschi nazisti in Germania nel settembre del 43 iniziano le prime deportazioni degli ebrei arrestati in Italia quindi nella zona del litorale adriatico da Merano e i primi eccidi nella penisola sulla sponda piemontese del lago Maggiore entrambi all'opera dei nazisti il 23 settembre del 43 viene costituito un nuovo governo fascista guidato da Mussolini che era scappato e che assume l'amministrazione dell'Italia centrale e settentrionale il nuovo stato verrà denominato come Repubblica Sociale Italiana la RSI con capitale a Salò che era una città vicino a Gardone dove aveva la sede il vittoriale di D'Annunzio sul lago di Garda e una disposizione interna della polizia tedesca inserisce ufficialmente gli ebrei di cittadinanza italiana tra quelli immediatamente soggettabili alla deportazione il 16 ottobre del 43 la polizia tedesca attua la più grande retata ai danni degli ebrei italiani a Roma dove c'era la comunità più grande appunto e da lì vengono deportati 1023 persone io nel compito di oggi vi ho messo la visione di un documentario che guardatelo perché davvero è assolutamente istruttivo e vi spiega bene e nel dettaglio tramite immagini anche crude ma purtroppo per conoscere la storia bisogna anche vederla su appunto la deportazione degli ebrei del ghetto di Roma avvenuta il 16 ottobre del 43 ok continuiamo nel novembre del 43 il ministero intero dell'RSI quindi la Repubblica Sociale Italiana di Salò decreta l'arresto degli ebrei di tutte le nazionalità e loro internamento prima in campi provinciali poi nazionali e il sequestro di tutti i loro beni nel dicembre del 43 viene allestito un nuovo campo a Fossoli presso Carpi provincia di Modena dal quale partiranno anche questo è principalmente un campo di raccolta partiranno quasi tutti gli ebrei italiani poi diretti verso Auschwitz questo è una foto del campo di Fossoli presso Carpi dopo la fine del suo utilizzo vedete che è stata smantellata e ha la stessa identica disposizione dei campi di concentramento che abbiamo visto molto simile a quello di Ferramonti di Tarsia allora siamo al 44 quindi la guerra sta lentamente andando verso la fine l'Italia continua ad essere occupata dai tedeschi e c'è il governo di Salò nell'Italia del nord il capo della polizia dell'RSI ordina per la prima volta un prefetto quello di Reggio Emilia di consegnare gli ebrei italiani ai tedeschi e il primo ordine è esplicito in tal genere pochi giorni dopo il prefetto risponde comunicando il trasferimento degli ebrei a Fossoli quindi il 5 febbraio del 44 a fine febbraio del 44 partono i primi convogli di deportazione da Fossoli ad Auschwitz e Bergen-Belsen il campo di Fossoli quindi si rivela come il punto operativo della cerniera tra l'RSI e il Terzo Reich quando parliamo di Terzo Reich parliamo del governo di Hitler vi ricordate il primo e il secondo Reich primo di Ottone il secondo di Guglielmo il grande e poi di Hitler come Terzo Reich il Terzo Regno in tedesco Fossoli quindi diventa il punto di raccordo la cerniera tra Salò quindi Mussolini e il Terzo Reich un episodio tristemente famoso è quello del 24 marzo l'abbiamo celebrato la scorsa settimana vi ricordo nel 44 l'eccidio delle forze fosserdeatine a Roma cosa fu? fu un massacro compiuto appunto a Roma dalle truppe di occupazione nazifascista ai danni di 335 civili e militari italiani non solo ebrei 75 di loro erano ebrei e fu un atto di rappresaglia per un attacco eseguito dai partigiani contro le truppe germaniche vedremo meglio che i tedeschi avranno sempre questo modus operandi se i partigiani fanno un atto uccidono anche solo un tedesco loro dovevano fare un atto di rappresaglia dieci volte più grande uccidendone altri dieci quindi oppure uccidendo o dando a fuoco incendiando intere città ecco il 24 marzo compiono lo sterminio di 335 persone civili e militari per vendicarsi dell'attacco dei partigiani il giorno prima in via Rasella questo episodio viene ricordato soprattutto per la sofferratezza per l'alto numero di vittime è diventato l'evento simbolo della rappresaglia nazista durante l'occupazione perché prende quel nome perché era avvenuto in queste antiche cave di Pozzolana site presso via Ardeatina appunto che viene vengono scelte come dei luoghi dell'esecuzione e poi per occultare i cadaveri degli uccisi quindi poi lasciati dentro queste fosse e oggi sono diventato un vero e proprio monumento ricordo dei fatti oggi sono anche visitabili il 4 giugno del 44 Roma viene liberata dagli alleati piano piano i campi di di raccolta dell'Italia centrale vengono chiusi quindi viene chiuso Fossoli e il campo nazionale guidato dall'RSI in accordo col terzo Rai viene spostato a Bolzano quindi vanno sempre più su andiamo brevemente avanti il 27 gennaio oggi è ricordato come il giorno della memoria del 45 viene liberato il campo simbolo della deportazione dello sterminio nazifascista sia al campo di Auschwitz il 24 febbraio parte l'ultimo convoglio di deportazione degli ebrei dall'Italia da Trieste per Bergen-Belsen quindi anche se il campo di Auschwitz era stato eliminato era stato liberato e i nazisti avevano ormai perso la guerra continuavano le deportazioni e gli stermini tanto che molti italiani morirono ancora nei mesi centrali del 45 quando ormai la guerra era finita il 15 aprile infatti venne liberato il campo di Bergen-Belsen l'ultimo campo e tra il 20 e il 30 aprile del 45 venne liberata tutta l'Italia settentrionale noi ricordiamo il 25 aprile come il giorno della liberazione dell'Italia e del giorno della liberazione di Milano cosa fu dunque la deportazione e lo sterminio degli ebrei in Italia parliamo di Shoah parliamo di Shoah o parliamo di Olocausto allora vengono utilizzati come sinonimi io preferisco Shoah perché Olocausto vuol dire sacrificio era utilizzato già nella Bibbia come sacrificio a Dio per chiedere scusa di qualcosa ecco l'Olocausto non è stato il sacrificio degli ebrei perché nessuno di loro ha voluto sacrificarsi gli è stato imposto Shoah invece in ebraico significa tragedia in mane catastrofe ecco è un secondo me appellativo che si può prestare meglio per definire quello che è stato lo sterminio nazifascista ai danni dei tedeschi allora abbiamo detto prima che in Italia c'erano circa 40.000 ebrei all'alba delle leggi razziali nel 38 il bilancio delle deportazioni fu questo vennero deportati 6.806 ebrei ne morirono 5.969 e ne sopravvissero 837 nei confronti quello dell'Italia sembra un numero piccolo nei confronti di quello che fu lo sterminio totale del vero e proprio genocidio degli ebrei che è pari a quello di 6 milioni di ebrei ossia circa i due terzi degli ebrei europei però è importante ricordare come anche Mussolini anche l'Italia contribui in questo piano folle e assolutamente ingiustificabile e ingiustificato che fu lo sterminio nazista pensato nella testa di Hitler e poi attuato con i mezzi che abbiamo visto che avremo tempo di vedere bene ancora affrontando le problematiche della Germania e poi lo sviluppo della seconda guerra mondiale avremo tempo per vedere bene perché queste cose bisogna per forza conoscerle affinché davvero non avvengano più bene allora la lezione di oggi finisce qua mi sembra che vi ho già dato molti dati e cose su cui riflettere per favore fate il compito in modo accurato non tanto per far contenta a me perché non è questo l'obiettivo ma perché sono cose che davvero servono a voi alla vostra crescita personale e alla alla vostra per la vostra cultura proprio perché sono cose che non si possono assolutamente ignorare ok grazie grazie